Mi chiamo Giancarlo Ruggeri, sono l'amministratore delegato di Politecnica Città e Gruppo Arroweld e ricopro questo ruolo dal 2007. Sono Silvano Calgaro, export manager in Politecnica Città e parte di Arroweld. Sono qui da 1999. Roberto Zattera, sono direttore tecnico di produzione di Politecnica Città e Gruppo Arroweld e sono qui dal 2014. La nostra azienda Politecnica Città ha due linee di business. Una è legata all'officina meccanica e lavorazione di materie plastiche. Noi produciamo particolari di asportazione truciolo sia di frisatura che di tornitura in materiale plastico. L'altra è invece legata ad articoli tecnici per l'industria, quindi noi trasformiamo su specifica dei nostri clienti gomma, silicone, poliuretani in cui abbiamo un ampio catalogo di prodotti che è indirizzati al costruttore di impianti. Nel nostro mercato è molto importante essere sempre in una posizione di dare qualcosa di nuovo ai nostri clienti. in termini di nuovi materiali, nuova performance e, ovviamente, di essere sempre competitivi in servizio e in prezzi. Especialmente per l'exporto, credo che il digitale potrebbe essere davvero un modo molto buon e veloce di attrattare nuovi clienti e, ovviamente, di mantenere loro parte del nostro negozio. Le due sfide professionali che stiamo seguendo in questo momento in particolare sono una, l'internazionalizzazione. È stata creata una funzione apposita, un ufficio esteri, composto da due unità e l'obiettivo è arrivare ad avere circa il 20% del nostro giro d'affari di esport. L'altra è di riorganizzare il reparto di produzione nella logica di Industria 4.0, complici anche gli sgravi fiscali dell'ultimo periodo. Stiamo cercando di mettere in pratica un robusto periodo di investimenti in questa direzione. Nel 2009 l'italiano era in una situazione molto critica, ma, a quel momento, abbiamo deciso che era davvero importante investire e sviluppare nel mercato export. Ne siamo usciti mantenendo stabili i livelli occupazionali, riorganizzando l'azienda e cercando di trasformare una criticità in un'opportunità di rivalutazione dei nostri problemi e della nostra dinamica interna. La dinamica e l'impegno e la focalizzazione sui clienti e sulle esigenze dei clienti tramontate poi e riportate nella struttura interna con le innovazioni tecnologiche e di processo. Non ci sentiamo arrivati oggi, riteniamo che gli aspetti del migliorare e l'attività da svolgere siano tante. Tutti quanti, tutti i giorni, cerchiamo di fare un passettino in avanti per migliorare l'azienda. Ogni giorno, lavoriamo insieme con i nostri clienti e sviluppiamo nuovi prodotti, nuovi materiali. Ci proviamo nel nostro lavoro di fare il nostro meglio per ottenere le migliori performance. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!